la rilevazione di GITS che si è svolta nel 2022. Prima di concentrarci sulle informazioni che vengono dall'ultima rilevazione, abbiamo pensato di fare una rapida panoramica su alcuni indicatori italiani di GITS relativi alla precedente rilevazione, quella del 2018, inquadrandoli in un contesto internazionale e più specificatamente europeo. Su cos'è GITS ha detto già la dottoressa Mastro Battista, quindi non mi soffermo a dire cos'è, perché e come funziona. L'unica cosa che volevo risottolineare era appunto la metodologia standardizzata e un cor di domande che consente la confrontabilità dei dati tra diversi paesi. i dati, le fonti dei dati che abbiamo preso per fare questi piccoli confronti sono ovviamente la GITS del 2018 italiano e per le fonti internazionali, oltre ai dati dei singoli paesi europei che sono disponibili sul sito dell'OMS oppure del CDC, anche delle ricerche bibliografiche su alcune pubblicazioni fatte che fornivano i dati a livello mondiale, dividendo il mondo in grandi macro aree. e poi alcuni report dell'OMS. I paesi europei su quali ci siamo concentrati, compresa l'Italia, sono 22, questi che vedete qui rappresentati. 14 di questi avevano dei dati abbastanza recenti, dal 2016 fino al 2020, 6 avevano dati tra l'11 e il 15 e solo due paesi, l'Estonia e l'Ungheria, avevano dati che erano precedenti al 2010. Ah, una cosa che volevo dire, tornando a quella precedente, è che questi sono un sotto insieme dei paesi europei che vengono considerati invece nella classificazione europea che utilizza il CDC di Atlanta e l'OMS, dove ci sono una parte di paesi che sono tipo la Russia, transcontinentali o la Turchia, l'Armenia, alcuni paesi dell'Asia meridionale. Quindi quando vedremo più avanti i dati relativi alle macro aree mondiali, l'Europa non è rappresentata solo da questi paesi, ma anche dagli altri paesi che qui non ci sono. Abbiamo selezionato 6 indicatori, appunto per essere abbastanza concisi, due relativi alle abitudini al fumo, quindi sigarette e sigarette elettroniche, l'esposizione al fumo passivo in casa e nei luoghi pubblici, l'accesso nel senso del mancato rifiuto di vendita dei prodotti da fumo ai ragazzi per la loro età e poi la suscettibilità nei ragazzi che non fumano, quindi se ritengono che potrebbe piacergli fumare. Vediamo il fumo di sigaretta. Le stime che fa l'OMS danno un valore di prevalenza di circa 21 milioni di adolescenti tra i 13 e i 15 anni globalmente che fumano e di questi i ragazzi sono più del doppio delle ragazze. Se andiamo a vedere per macro aree, l'Europa si posiziona alla top di questa classifica con una prevalenza intorno all'8%, seguita poi dalle Americhe, si intende l'America centrale e l'America del sud. Per quanto riguarda i ragazzi, al primo posto ci sono i ragazzi del sud-est asiatico con una prevalenza del 9% seguiti dall'Europa, ma comunque i valori sono simili, 9, 2, 8 e 8. Per le ragazze, analogamente, è l'Europa e le Americhe che hanno una prevalenza intorno al 7%. Se ci restringiamo ai 22 paesi europei, vediamo che le prevalenze, le stime di prevalenza vanno dal 4% dell'Albania, che poi è anche il paese che ha la rilevazione più recente del 2020 fino al 27% dell'Estonia. L'Italia sta a, diciamo, chiamiamolo un terzo posto, ma insieme a pari merito con la Bulgaria. C'è da sottolineare che Estonia e Ungheria sono anche i due paesi che hanno l'ultima survey disponibile precedente al 2010, quindi non sappiamo quanto la situazione adesso possa essere cambiata. Se stratifichiamo, vediamo la stratificazione per genere, vediamo che in una buona parte dei paesi considerati le ragazze hanno dei valori più alti e in Italia questo differenziale possiamo quantificarlo in più 7 punti percentuali. Per quanto riguarda invece l'uso di sigarette elettroniche, le sigarette elettroniche ovviamente è da poco tempo sicuramente rispetto alle sigarette classiche che sono in commercio e quindi i dati che si raccolgono da relativamente poco tempo. Per i giovani abbiamo GIZ, HBSG, ESPAD, GSHS che raccolgono informazioni. Al momento il 46% dei paesi hanno delle survey rappresentative per monitorare il fenomeno tra gli adolescenti e di queste 72% monitorano la fascia 13-15 anni. Mentre la media overhaul a livello mondiale è intorno all'11%, l'Europa sta nettamente sopra con un valore tra il 15 e il 16%. Da sottolineare che in nessun paese dove appunto ci sono queste survey si registra un dato pari a zero. Per quanto riguarda i paesi, anche in questo caso l'Italia si posiziona in vetta, purtroppo in vetta tra le prime tre all'interno di questo gruppo di paesi. A differenza delle sigarette classiche, per le sigarette elettroniche sembra esserci ancora, almeno ai dati del 2018, poi vedremo cosa è successo con i dati del 2022, un differenziale a favore dei ragazzi. In Italia questo differenziale è di più 9 punti percentuali. Esposizione al fumo passivo. Allora, nella tabella vediamo rappresentate le stime fatte con i dati GIZ nella prima colonna tra il 99 e il 2008, nella seconda colonna tra il 99 e il 2018. Overall c'è stata una diminuzione, un aumento, scusate, a livello mondiale dell'esposizione al fumo passivo in casa. Gli unici paesi in cui si è verificata una diminuzione sono le Americhe e l'Europa, dove c'è stata una diminuzione dal 54 al 38%. Guardando i paesi europei vediamo che l'Italia non si posiziona proprio alla vetta della classifica, ma comunque sta in una posizione medio alta con un 50% di ragazzi che riferiscono che in casa sono stati esposti al fumo di qualche altra persona, componente della famiglia. Invece una cosa in particolare è che se andiamo a vedere la stratificazione per genere vediamo che per tutti i paesi le ragazze riferiscono valori maggiori, probabilmente per una maggiore sensibilità a rilevare il fenomeno, perché non c'è una spiegazione, visto che parliamo dell'ambiente familiare, non parliamo di altri ambiti e in Italia questo differenziale è di circa 6 punti percentuali. Nei luoghi pubblici al chiuso vediamo che in questo caso praticamente la stima overall aumenta notevolmente tra diciamo le stime del 2008 a quelle del 2018 e l'unico l'ultima macro area in cui si registra una diminuzione è proprio l'Europa dove c'è la zona europea dove c'è una diminuzione di circa 6 punti percentuali. In questo caso l'Italia rispetto agli altri paesi considerati si posiziona in una diciamo medio-bassa però comunque è sempre un 45% considerando che noi abbiamo la legge comunque di vieto di fumo nei luoghi pubblici al chiuso. La distribuzione per genere anche in questo caso rispecchia quella dell'esposizione al fumo passivo in casa cioè le ragazze sembrano avere una maggiore sensibilità a registrare il fenomeno quindi hanno valori di prevalenza più alti non per l'Italia l'Italia è l'unico paese in cui il dato maschi e femmine è sovrapponibile per quanto riguarda l'accessibilità abbiamo preso la domanda che chiedeva se negli ultimi giorni quando il ragazzo è entrato in un negozio per comprare sigarette o tabacco il gestore si fosse rifiutato di vendergli e abbiamo preso diciamo le stime delle prevalenze e la risposta no cioè non sì ma no il gestore non si è rifiutato a livello mondiale abbiamo una stima del 43 scusate del 40% mentre l'Europa insieme alla zona del Mediterraneo dell'Est si posiziona sopra la media quindi sembra che non è non esserci questa attenzione a non venderle ai ragazzi giovani all'interno della distribuzione per i paesi europei vediamo che l'Italia si posiziona diciamo in una situazione media ma sicuramente tutti questi paesi europei sono sopra la media che viene fuori considerando anche i paesi che qui non sono inclusi la suscettibilità la suscettibilità abbiamo considerato la domanda fatta ai ragazzi che non hanno mai fumato e se pensano che potrebbe piacergli fumare e non avevamo dati in questo caso a livello cioè non siamo riusciti a trovare dati a livello mondiale quindi ci siamo concentrati sui paesi europei e vediamo che purtroppo l'Italia si posiziona al primo posto con un 11% e la cosa da sottolineare anche è che per le prime diciamo per i paesi che sono in prima posizione compresa l'Italia quasi per tutti il contributo maggiore è dato dalle ragazze cioè le ragazze sono quelle che pensano che forse gli potrebbe piacere fumare quindi sono suscettibili di iniziare a fumare considerazioni finali allora le sorveglianze come è già stato detto sono uno strumento essenziale per avere uno spaccato del fenomeno e per sviluppare e orientare programmi di prevenzione e promozione della salute è utile il confronto con gli altri paesi è utile non solo in termini di dati ma anche sarebbe utile come confronto sulle politiche di intervento e soprattutto sulla valutazione della loro efficacia abbiamo visto che per la prevalenza di fumo di sigaretta e utilizzo di sigaretta elettronica le stime europee sono le più alte al mondo e comunque per l'Italia siamo sempre in posizioni elevate in Italia ma come anche in tutto il resto dell'Europa sembra esserci un problema femminile legato al fumo di sigaretta e un problema maschile legato all'uso delle sigarette elettroniche e l'esposizione al fumo passivo nei luoghi pubblici nei paesi europei in Italia è ancora troppo alto nonostante ci siano le leggi e poi l'ultimo dato è che l'Italia ha la percentuale più alta di ragazzi suscettibili ad iniziare a fumare volevo solamente evidenziare i punti di forza e le limitazioni della survey sicuramente come è stato detto prima di me e ho già ripetuto anch'io l'utilizzo di una metodologia standardizzata è uno dei punti di forza e anche il fatto che per la stragrande maggioranza dei paesi nonostante le survey si svolgano in anni non negli stessi anni ma in anni possono svolgersi in anni diversi comunque sono abbastanza vicini da poter comprendere i dati confrontabili questo è un punto di forza ma può essere anche una limitazione nel senso che abbiamo visto l'Estonia e l'Ungheria hanno dati estremamente vecchi quindi è difficile da dire quanto siano rappresentativi della situazione attuale altre limitazioni sono che sono dati autoriferiti e quindi in questo possono introdurre dei bias il fatto che non tutti i paesi partecipano al GIT e poi che le stime ottenute dal GIT potrebbero essere conservative in quanto è una survey school based e quindi può portare a distorsione cioè i ragazzi che non frequentano la scuola potrebbero essere quelli con maggiori comportamenti a rischio quindi